e c'è il primo errore al tiro da ambo le parti ma l'extra possesso recuperato da Udom che ci conferma sempre molto presente a canestro sotto le planche, la conclusione di Severini che va a infilare e quindi c'è adesso l'opportunità con la stoppata di Henderson il possesso con un passaggio troppo in profondità Amato mette subito in movimento per la conclusione di Udom dall'angolo a segno anche 16 lo è iniziato proprio da assistente della sua città esitazione di Henderson che scarica poi all'ultimo momento giustamente per Udom che appoggia a Candussi il gancio 13 chi attacca, 2 chi difende, è entrato Quarisa per Verona adesso Severini si costruisce il tiro per la formazione ospite, 3 minuti e 20 chiude subito Ferguson e va Udom a palleggio di sinistro obiettivamente qualche punto sui 4 punti in classifica della Tezenis c'è ma invece mi sembra abbastanza chiaro perché Cagliari ne abbia soltanto 2 che stoppata, dice no a Miles Amato tiene viva ancora la palla continuando il palleggio per la tripla di Maspero anche lì Cagliari che ruba palla e adesso c'è il lancio lungo per un Alleyup clamoroso è rientrato Allegretti per la Herz Cagliari Ferguson dentro per il primo quarto adesso prova il numero e viene punito Johnson c'è il contropiede con un reverse e lo scarico e la schiacciata assist di Amato la schiacciata di Anderson gran numero, l'azione più bella fino a questo momento della partita tutto questo aspetto quindi anche lavoro meno appariscente forse ma altrettanto importante Amato in palleggio chiude, ribalta per Severini eccolo qua di Candussi, gran lavoro, Candussi gli ha tolto la palla dalle mani Amato fa saltare l'uomo passaggio dietro per Anderson un'altra tripla Udom è un po' sconsolato perché questo a mio avviso era fallo e adesso c'è Allegretti che segna la prima tripla dopo 11 tentativi di Cagliari Comedetton ultimi due minuti del terzo quarto Dieng per Ferguson passaggio dentro per Udom che va a schiacciare dopo aver Ferguson Dieng ribalta riceve la palla adesso attacca il ferro schizza via Miles non può spendere falli la Tezzeni stoppata di Anderson è giocatore multitasking scarica dentro per Anderson fuori la conclusione di Ferguson non va ribalzo di Baspero e finisce dunque 89 a 69